Buona giornata amici da Massimo Foghetti, ben trovati alla rassegna stampa di Fanon TV. Abbiamo pronti i giornali, questa mattina resta il carino e il Corriere Adriatico con le cronache locali. Le cronache nazionali hanno notizie ormai che sono quelle consottedunarie per quanto riguarda la guerra in Ucraina e l'invasione russa. Sappiamo come ieri si è concluso un anno di grandi scontri, di violenti scontri, di drammatici scontri che hanno devastato quel paese. La notizia nuova è la morte di Maurizio Costanzo che viene evidenziata su tutti i giornali. Ma noi parliamo delle cose di casa nostra, così possiamo dire, per quanto riguarda tutta la regione Marche e passiamo attraverso l'almanacco del giorno. Il santo di oggi è San Gerlando. San Gerlando fu un vescovo siciliano che divenne appunto tale dopo la lunga occupazione araba della Sicilia, che durò dall'829 al 1086. Fu vescovo di Agrigento, riorganizzò la comunità cristiana e devenerato oggi come patrono della sua città. Ed ora vediamo le previsioni del tempo. Su tutte le Marche vediamo che si estendono nubi sparse, alternate a schiarite per l'intera giornata, con una tendenza a schiarite in serata. I venti sono tesi da sud ovest al mattino, moderati al pomeriggio. Il mare è poco mosso, la temperatura è piuttosto alta, specialmente alla minima. 10 gradi e non si scende più di sotto, mentre la temperatura massima arriva a 16 gradi, quindi tra i 10 e i 16 gradi. Questo è un po' il primo avvisaglio del primavera, ma anche se c'è tutto marzo ancora da trascorrere, probabilmente il freddo giungerà di nuovo. E allora apriamo i giornali a partire dal resto del Carlino sulla pagina di Fano e vediamo un aggiornamento del processo che si svolge in Ancona per il caso della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Ieri erano attesi a testimoniare davanti ai giudici due personaggi particolari, Fedes e Sfera. Fedes e Sfera però non si sono presentati, hanno disertato l'aula. Il primo doveva registrare uno spot, l'altro una videoclip. I due cantanti erano attesi ieri mattina, ma si sono avvalsi del legittimo impedimento. Vediamo che Fedes, ovvero Federico Leonardo Lucia, tra i cantanti della musica giovanile più noti nel panorama musicale, ha fatto sapere che doveva registrare una pubblicità per il McDonald's, mentre Sfera doveva registrare una videoclip riguardante il lancio di un singolo che lo vede protagonista. Ovviamente i due dovranno ricomparire poi davanti al giudice in un'altra udienza che dovrà essere fissata. Intanto vediamo una relazione del perito che afferma che quella balaustra che doveva assicurare la sicurezza per quanto riguarda l'uscita dalla discoteca la lanterna azzurra era improvvisata ed inaccettabile. Una rampa così, ha dichiarato, l'avrei fatta demolire. Le criticità erano immediatamente percettibili. Questa appunto la relazione che aggrava ancora di più la posizione degli imputati. Ed ora passiamo a Viale Dante Alighieri a Fano. Questa strada le cui ultime misure di sicurezza sono state contestate da una parte dagli esercenti, dall'altra dai residenti. E il comune si trova nel mezzo. Vediamo il titolo. Viale Dante. Ci sono i segnali, ma non le multe. I residenti insistono perché l'amministrazione comunale faccia rispettare il codice della strada. Intanto la FIAB organizza un flash mob per domani alle ore 11.30 nei pressi dell'anfiteatro Rastat. La segnaletica dunque su questa via è stata completata per quanto riguarda la traccia di un camminamento pedonale. Sappiamo appunto che la pista ciclabile non viene realizzata, ma c'è chi continua a parcheggiare. E nel percorso pedonale non si vedono i vigili a fare le multe. Allora i residenti di Viale Dante e Lighieri, almeno quella parte che si batte per la tutela della viabilità più fragile, quella più debole, insistono perché l'amministrazione comunale faccia rispettare il codice della strada. Se esiste un divieto di parcheggio i vigili devono intervenire. L'amministrazione comunale in questo periodo invece sta usando un po' di tolleranza per non inasprire gli animi e giungere poi dopo un periodo di prova alla sanzione, così come giusto che sia. Giriamo ancora la pagina e vediamo come abbiamo qua un'altra protesta, un'altra protesta di altro genere. Spunta la tassa sui disabili, ora esplode la protesta. definiti criteri di compartecipazione delle famiglie alla spesa dei servizi. E lamentele di una mamma il trasporto sarà solo a pagamento. Abbiamo visto anche come nei giorni scorsi era apparsa una protesta di una mamma che si lamentava per la compartecipazione alle spese di trasporto per la figlia che era autistica. In questo caso, per il 2023, l'ambito sociale ha istituito la tassa sui disabili, ad annunciarlo, e Fratelli d'Italia, dopo che l'ambito sociale ha definito i criteri di compartecipazione delle famiglie alla spesa dei servizi di trasporto. La delibera ha un effetto immediato e vincolante per il Comune di Fano, mentre dovrà essere approvata dai consigli comunali degli altri comuni che fanno parte appunto dell'ambito numero 6. I sindaci hanno votato tutti a favore, tranne il sindaco dell'Onti, il sindaco di San Lorenzo in campo, che si è astenuto. E secondo Fratelli d'Italia, il diritto delle famiglie di ottenere pari opportunità per i propri ragazzi e le ragazze diversamente abili è fortemente compromesso da un atto discriminatorio che non tiene conto delle difficoltà quotidiane che già queste famiglie devono affrontare. Insomma, hanno tante difficoltà e ci metti sopra anche la tassa. È una decisione che rimballo da diverso tempo e ora purtroppo viene imposta. C'è anche una dichiarazione del vecchio. Non mi sarei mai aspettato che qualcuno pensasse di non esentare queste categorie, ha dichiarato l'ex Assessore ai Servizi Sociali. Vediamo anche un'altra notizia per quanto riguarda il Comitato dei Sindaci. Qui sul Corriere Adriatico abbiamo un sostegno invece che viene dato alle famiglie. Sostegno alle famiglie, bando per i nuclei numerosi o separati. Le risorse della Regione per i nove comuni dell'ambito sociale numero 6. Si tratta di risorse che vengono assegnate secondo due momenti. Il primo momento parla di 49.020 euro. Si tratta del finanziamento di tre categorie. Si danno contributi, per esempio, alle famiglie con un numero di figli pari o superiori a 4, per un importo di 14.706 euro. Poi abbiamo contributi per il sostegno al pagamento della casa, al pagamento dell'affitto per 24.510 euro. E ancora il sostegno alle famiglie con figli minori d'età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori, per 9.804 euro. Va a finire che queste famiglie percepiranno 500 euro ed è una tantum. Non è che risolve la situazione, ma insomma aiuta ad andare avanti. Qua invece abbiamo una truffa. Una truffa vende un immobile online, ma gli vuotano il conto. Ebbene, lui è un 52enne di Varese che assieme ad un 43enne del Togo, residente a Mantua, avrebbe spillato 600 euro ad un fanese. Quest'ultimo aveva messo in vendita online un armadio per 100 euro. A rispondere all'annuncio sarebbe stato appunto questo uomo di Varese. E ha così concluso la trattativa e ha proposto di pagare con una nuova modalità di ricarica al post-pay, chiedendo al venditore di ricarsi a uno sportello ATM, quello dove c'è il banco, ma per inserire i codici necessari all'accredito dei 100 euro. Ma qui l'operazione è stata manipolata. E appunto l'uomo ha svuotato il conto di quello che gli doveva vendere l'immobile. Il mobile, non l'immobile, il mobile. E quindi è stato truffato. Ed ora vediamo di un incidente, sempre sul Corriere Adriatico. Un busse tampona e causa una carambola nei pressi della rotatoria di Centinerola in Via Roma. Lo scontro alle 8.30 ieri mattina. Grave, un fanese, inlesa l'autista e i passeggeri di AMI. Infatti lo scontro ha implicato anche un autobus. Dunque un codice rosso, però, per un fanese di 52 anni, che ha riportato serie lesioni nell'incidente avvenuto ieri lungo la Flaminia a Centinerola. Il ferito è stato prelevato con l'eliambulanza e trasportato a Torrette. Ci sono stati poi anche diversi rallentamenti sulla viabilità, ovviamente, per dar modo agli inquirenti di verificare le modalità dell'incidente e di compiere i necessari rilevamenti. Invece vediamo un articolo che riguarda Fossombrone, per quanto un dipendente del Comune che intascava i soldi dei loculi e non li riversava all'amministrazione comunale. È stato condannato a risarcire 30.000 euro. Questa è la sentenza della Corte dei Conti per l'ex responsabile comunale del cimitero di Fossombrone. Si tratta di GP, 58 anni, ex dipendente appunto del Comune e deve, la somma è quasi, non è 30.000, è un pochino di più, 31.000 euro. E ieri a Fanno si è svolta una manifestazione in favore della pace contro la guerra ucraina-russa. Sfilano i pacifisti fuori la guerra dalla storia. Almeno 200 fanesi, forse, forse anche di più, si sono ritrovati al Pincio di Fanno ieri per partecipare alla camminata per la pace. Ebbene, lo spettacolo è stato variopinto. Ovviamente doveva cogliere l'attenzione dei passanti. Cartelli colorati, striscioni in testa al corteo. Poi una marcia, una marcia verso Piazza 20 Settembre, dove erano previsti gli interventi scanditi alla loro conclusione dallo slogan, fuori la guerra dalla storia. Dove è un evento che non dovrebbe mai essere narrato. Tra i partecipanti, il Vescovo Armando Trasarti, la consigliera regionale Marta Ruggeri, l'assessore Samuele Mascarin e alcuni consiglieri comunali. Dunque una manifestazione. Ieri, come abbiamo detto, era trascorso un anno dalla guerra. E ritorniamo ora alla pagina del resto del Carlino. Vediamo qui l'articolo che riguarda l'incidente che si è verificato sulla Flaminia. Aspettate un attimo. Ecco, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Scontro sulla Flaminia. Tre feriti, uno è più grave. E' quello che è stato ricoverato con codice rosso all'ospedale di Torrette di Ancona. Eccolo qua. Paura ieri mattina lungo la Flaminia per un frontale tra due auto innescato da un autobus pieno di gente. Era l'autobus dell'Ami. A Marotta la Midoranza va all'attacco. Ascensore del sottopasso ancora K.O. Si tratta del sottopasso ciclopedonale all'altezza di Piazza Roma. E' un sottopasso che supera la ferrovia. Ebbene, questo sottopasso è stato aperto quasi due anni fa e ancora l'ascensore della struttura non ha funzionato neppure per un minuto. E' assurdo e inammessibile. Ha detto il leader del gruppo di minoranza Anteo Bonaccorsi fortemente critico nei confronti dell'amministrazione comunale. A Urbino. A Urbino sono stati rimossi i comignoli pericolanti che erano su uno stabile sullo studentato Maria Immacolata di Via Mazzini che è gestito dall'ordine delle maestre Pie Venerini. Così i passanti e i residenti soprattutto oltre ai commercianti tirano un sospiro di sollievo perché i comignoli ritenuti pericolanti sul tetto dell'imponente Palazzo Palma erano veramente un pericolo per coloro che passavano di sotto e quindi sono stati analizzati consolidati da una ditta specializzata. Vediamo qui le fasi dei lavori che hanno proceduto a questo intervento. Vediamo qui i vigi del fuoco sul tetto. Per collegarsi a Gubbio c'è già un progetto. Parliamo di che cosa? Parliamo della Contessa. Questo tratto di strada che unisce Cantiano poco più avanti di Cantiano a Gubbio è essenziale per raggiungere la superstrada Cesena-Terni. È la superstrada che conduce a Roma da una parte mentre dall'altra si va in Alta Italia. Un collegamento importante per tutte le marche che vogliono raggiungere il capitale. Ebbene, questa strada dovrà essere chiusa per molti mesi forse per un anno per importanti lavori di cura e di manutenzione. Tuttavia, per collegarsi a Gubbio c'è già un progetto. Lo evidenzia Andrea Biancani consigliere regionale del Partito Democratico. Ebbene, un progetto preliminare il cui costo fu sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia pronto dal 2005. Ebbene, questo progetto evidenzia due soluzioni. Entrambe di circa 12 chilometri. Ipotizzano un nuovo tracciato compreso tra Ponte Riccioli e Gubbio. La prima soluzione prevede tre gallerie 4.240 metri 765 e 330 metri sono tre gallerie di diversa lunghezza intorno al 3-4,1% per quanto riguarda la pendenza. La seconda soluzione propone invece due gallerie è soltanto una di 1.700 metri l'altra di 415 con circa 4.000 metri di nuovi viadotti. La prima soluzione aveva un costo allora di 272 milioni la seconda di 200 milioni. Probabilmente eseguirli adesso il progetto, come ho detto, risale al 2005. costerà di più perché c'è stato l'aumento delle materie prime e poi ci sono ulteriori condizioni di sicurezza da osservare. Comunque è un progetto che può essere fatto, può essere eseguito e certamente renderebbe migliore la viabilità più veloce, più sicura, la viabilità di tutto il nord delle Marche verso il centro dell'Umbria e quindi verso tutte le altre direzioni. La Regione inoltre riqualifica i piccoli centri storici. Due comuni, Borgo Pace e Mercatello sul Metauro, hanno vinto un concorso per progettare le migliorie nei luoghi più caratteristici, oltre 800 mila euro che faranno sicuramente la differenza. 800 mila euro per questi due comuni sono molto molto importanti. Truffò il comune, scoperto vent'anni dopo, si parla del truffatore del cimitero che intascava i soldi dei loculi. La Corte dei Conti ha svelato in apertura dell'anno giudiziario un caso che riguarda Fossombrone e di questo abbiamo già parlato. Vediamo ora le notizie che riguardano Senigallia. Sul Corriere Adriatico il viceministro interviene sul Ponte Garibaldi, pronti ad intervenire e fare presto. Manca il via libera della soprintendenza, di solito la soprintendenza ci bada parecchio per esprimere i suoi pareri. Rixi, preoccupato del Ponte Angeli, crea l'effetto diga. Ebbene, vediamo il sopralluogo a Senigallia del viceministro Rixi che ha appunto sollecitato perché questa grande infrastruttura venga danneggiata dopo l'alluvione dei mesi scorsi venga ripristinata al più presto. Vediamo che anche poi il Corriere Adriatico si occupa del processo di Ancona per Corinaldo. La lanterna è un deposito agricolo, l'uscita di sicurezza inguardabile. Pensate, la lanterna è un deposito agricolo, altro che discoteca. Strage in discoteca, la perizia dell'ingegnere Mangione assente in aula. Come abbiamo detto, i testimoni Fedes e Sfera. Diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi dove c'è un ritorno per quanto riguarda il delitto che si è svolto nei giorni scorsi, che è stato compiuto con le pugnalate nei giorni scorsi. Omicidio, l'enigma, Michael, la polizia sequestra il suo PC. Indagine blindata dai numerosi indizi raccolti, ma si cercano elementi utili sugli ultimi contatti con la vittima. Vediamo qui i due protagonisti di questa vicenda, la vittima Pierpaolo Panzieri e l'assassinio Michael Alessandrini, che è stato arrestato in Romania mentre tentava di raggiungere l'Ucraina dove voleva ruolarsi per combattere i russi. L'indagine, dicevo, è blindata. Comunque gli inquirenti cercano di capire quali sono veramente le ragioni che hanno attivato la lite, i due erano a cena nella casa della vittima conclusa poi con l'assassino. Siamo pronti a chiedere una perizia psichiatrica, ha detto l'avvocato Asole che si affianca al criminologo del caso Iara. Pesaro 2024 pronti per l'estate per la promozione turistica. L'obiettivo è presentare i progetti già definiti per la Capitale della Cultura entro i primi di luglio. Capitale della Cultura Pesaro attende con ansia questo avvenimento che dovrà occupare di sé tutto il 2024. Ieri c'è stato un incontro per operare nel concreto. L'assessore Daniele Vimini e il direttore generale Silvano Straccini hanno colto l'occasione di illustrare ai referenti dei 50 comuni perché appunto gli avvenimenti coinvolgeranno un po' tutto il territorio nella fase operativa. Si tratta di un coinvolgimento dal titolo 50 per 50 capitali al quadrato parte integrante appunto della strategia per la capitale della cultura. Ebbene parliamo anche di politica perché domani si svolgono le elezioni primarie del partito del partito democratico 60 seggi e 200 volontari domani si sceglie la segreteria nazionale e regionale il PD chiama tutti al voto e qui vediamo la presentazione della macchina organizzativa delle primarie del partito democratico con al centro la segretaria provinciale del partito Rosetta Fulbi Giriamo ancora la pagina e vediamo come si parli di rilancio dei comuni dei comuni interni fattore Q la regione punta sulla qualità Q come qualità in gioco c'è il rilancio dei comuni interni Borgo Pace e Mercatello si aggiudica un milione di euro ciascuno per il ricob per il recupero storico e ambientale e vediamo anche un articolo che riguarda gli scout a Gesci festa come un secolo fa con mille scout attesi in Duomo a Pesaro concelebrerà l'arcivescovo Salvucci già guida degli esploratori a Monte Granaro ed ora ritorniamo al resto del Carlino al resto del Carlino sulla pagina di Pesaro torniamo all'omicidio all'omicidio che sta facendo tanto parlare di sé abbiamo fatto pace ora sistemo tutto io è una conversazione che l'autore del delitto aveva fatto con il padre attraverso il telefonino dando una versione che non era in realtà quella reale abbiamo fatto pace in realtà la vittima era stata già uccisa il messaggio shock del killer dopo il massacro Alessandrini ha scritto al padre con il cellulare di Panzieri con cui si sarebbe arrabbiato prima della cena non con il cellulare ovviamente ma con Panzieri e alle 4.30 i vicini l'hanno sentito addirittura piangere dobbiamo capire meglio che rapporto c'era tra i due Dino Venanzini il psichiatra prova a sondare i misteri del movente 13 coltellate in realtà sono tante l'unica cosa è parlare con l'assassino a cercare di capire qual è stato il movente che ha scatenato la sua ira donna aggredita dal marito prof e allievi intervengono in aiuto ebbene questo è un episodio curioso che si è verificato nei pressi del cimitero a San Decenzio è successo ieri mattina dove una scolaresca la seconda C del Mamiani stava facendo l'ora di ginnastica all'aperto forte grida la docente accorre e cade e si frattura addirittura il malleolo il preside complimenti a questi ragazzi diamo così scientificamente un piccolo resoconto di come è avvenuto questa cosa da una parte c'era la scuola la classe che faceva ginnastica sentono delle grida si guardano attorno e capiscono che provengono dall'interno di un'auto dove una coppia stava litigando e addirittura c'era il marito che stava alzando le mani nei confronti della moglie a questo punto sono intervenuti i ragazzi e l'insegnante l'insegnante è a corsa addirittura è caduta e si è fatta male al malleolo poi è intervenuto anche il 118 per portarla all'ospedale per fortuna è arrivato anche il figlio e ha ricomposto la lite tra il padre e la madre e poi sono arrivati le forze dell'ordine e tutto quanto ma per fortuna l'intervento dei ragazzi degli allievi degli studenti ha risolto la situazione perché ha così cercato di placare ha placato sostanzialmente l'animo appunto del marito che era furioso ed ora vediamo anche un incidente che si è verificato per quanto riguarda un cane rabbioso un pitbull azzanna un setter e il padrone panico al mare poi arriva un angelo arriva una persona una donna in bicicletta che placa il cane versandogli addosso una bottiglia di tè freddo che aveva appena acquistato e il cane ha tolto la presa stava zannando la gamba dell'altro animale un cane razza setter grondante di sangue perché i denti del pitbull gli avevano trapassato una zampa da una parte all'altra ebbene era sul terreno sanguinante con una profonda ferita ed una mano anche il proprietario del cane da caccia quindi anche il proprietario si era ferito alla mano questo cane rabbioso è stato placato appunto da una donna che è scesa dalla bicicletta con il sacchetto della spesa ha tirato fuori una bottiglia e l'ha rovesciata sopra la testa del pitbull che ha immediatamente staccato la presa altrimenti non si sa come sarebbe finita e qui c'è appunto l'intervista dei protagonisti di questo evento candele slogan e bandiere ora basta con la guerra ad un anno dall'inizio del conflitto russo-ucraino anche Pesaro ricorda quello che sta avvenendo omaggio delle vittime sulle due piazze principali del centro chiudiamo ora la pagina del resto del Carlino ma la riapriamo per quanto riguarda le notizie sportive visse adesso tutte le gare sono decisive l'allenatore brevi Alessandria un importante confronto come le altre in settimana ci siamo riposati e ora dobbiamo lavorare bene battere il Fano è decisivo il mio termone ci proverà il direttore sportivo dei Molisani De Vito dice vogliamo uscire dalla zona play out ma il Fano e il Granato ovviamente non ci stanno mentre per quanto riguarda la promozione ci saranno scontri di fuoco tra le quattro big del girone la capolista Montecchio sul campo della quarta Marotta Mondolfo Urbania ad Ancona per la gara perfetta e vediamo anche il derby a Mercatello con il Super Lunano eccolo qua prima e seconda categoria il Santa Veneranda ingaggia l'attaccante a Pezzuguia mentre appunto a Mercatello c'è questo derby ed è l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a lunedì per la rassegna stampa di inizio settimana grazie per l'ascolto a risentirci par la prated di appuntamento a ho av l'apuntamento a